eccoci qua signori big luca da dubai dalla sua stabile maggiore di residenza emirati arabi uniti signori siamo sempre qui io sì donna no perché è dovuta rientrare d'urgenza in italia tramite jet primos che normale per alcune cose familiari non troppo gravi comunque a proprio inquatevi signori oggi siete particolarmente avidi e vogliosi del corso state scardinando tutte le piattaforme bravi complimenti sembra anche corretto mi sembra anche normale consiglio di aspettare fino a dopo il lancio tanto non ci sono grosse novità semplicemente cambiato tutto lo potete vedere dagli scritto è un'altra cosa potete evitare di scriverci perché continuate a vedere screenshot di gente che sta monetizzando i 24 ore ma non ho capito perché io mi competito non capisco più cosa tranquilli tutto giusto voi siete e gazzellina quegli altri sono diventati i baboni stavo guardando la tua lezione e riprendo con te live grande grande christian come andiamo tutto a posto mancano tre giorni tre giorni alla fine del lancio di info marketing per babuini il tutto la luce eccetera ho già finito ragazzi è arrivato il 6 per 6 l'ho appena chiuso ok giustamente non ve l'ho fatto vedere scombinato potreste non credere ma chi se ne frega ho invece scombinato il 7 e quella vedo un po lunga il 6 l'ho chiuso in due ore tre ore non lo so se è il numero uno grazie grazie allora vi ricordo la free trial se andate su prova babuini puntocom per chi è scettico non capisce no ma secondo me il posizionamento ho creato la categoria è tutto giusto che voi continuate voi si guidate a fare queste cose qua stanno funzionando tutte giusto esatto prova babuini puntocom quando pubblicherà i risultati dell'agile ma non lo so se a sto giro di pubblico guarda perché pubblicare gli screenshot e dashboard oramai uno sport in perdita una rottura di balle preso il corso di pronti ad aprire nuova categoria grande grande signori ragazzi le robe per l'infomarketing le informazioni consulenti le parcelle chi vende info coach fitness coach eccetera sono realmente cambiate non è uno scherzo quindi adesso siamo passati a una fase in cui bisogna capire un attimo di più di cosa si fa quindi chiunque copia i prezzi degli altri faccio al fan del marketing tra poco si estingue vi avevo già detto questa cosa sul team telefonico adesso se vedete hanno tutti switchato al team telefonico ok a colleghi ve ne prego quando state facendo il messaggio è questo ragazzi se volete le informazioni dei nostri corsi non dovete cercare di estorcerle dalle persone con espedienti ok dovete prendere i corsi ok lo dico prendete i corsi non state lì a fare a fare non posso non posso dare ulteriori riferimenti grandi signori i vari leader di mercato di un sacco di persone conosciute sono già entrate alcuni si possono dire come pozza altri non si possono dire come chi non si può dire non verrà mai detto comunque stanno saltando dentro e adesso vedrete nell'industria succedere una cosa io vi sto avvertendo una roba che non riuscirete a copiare ok prima tutto il discorso dei prezzi secondo discorso dei contenuti terzo il discorso di tutte le variabili che io ho messo nel corso un corso estremamente completo pieno di variabili criticità cosa fare cosa non fare e vi presento un progetto che sarà da qui ai prossimi anni quindi chi vive con delle vecchie regole adesso il mercato si è mosso vi avevo già fatto questa roba qui per il team telefonico non ci avete creduto a no ma cosa c'entra il team telefonico adesso avevamo fatto la riapertura di bta ve lo siete mangiato con una riapertura avevamo fatto 240 vendita una riapertura perché dopo che l'abbiamo lanciato la prima volta ci sono state delle differenze al mercato adesso tutti si scannano per fare venditore telefonica per il team con info marketing per babbuini è peggio ok è veramente molto peggio io sto chiudendo bando la 497 come se piovesse ho trovato la combinazione magica con babbuini grande luca ciraro vedete adesso adesso te lo dico io ciraro cosa succede tu sei nella stessa nicchia di 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 pozzolo possiamo dire ma ma siete due persone intelligenti ognuno c'è i propri prezzo adesso che hai detto 497 tu vedrai alcuni deficienti che dicono ma c'è ma c'è ma che cazzo mi aveva detto il big mille è 496 e quindi parlando a 497 ma per loro non è giusto ma non godi ciraro la 497 se la monetizza così grande ma perché 497 gazelline mie quanto amore che io però che siete penne siete non lui che è un babbuino babbuino infatti stiamo quanti soldi hai già fatto dopo che hai preso il corso metti la cifra no è tutta fuffa chiaramente metti la cifra che mi fa piacere ok quindi questo corso è un problema ok adesso venderanno tutti a 496 esatto perché non capiscono ai capiti ma c'è ma è che 496 invece quella roba lì va bene per lui perché lui ha fatto tutto un ragionamento e adesso vende così sta monetizzando allegramente ok ciao big sono l'infermire più mentecato babbuino che ci sia la trovi una categoria nuova in cui posso mettere come super leader è così ragazzi è arrivata è arrivata dispiace dispiace magari purtroppo il mercato corregge le illusioni signori quella roba lì non è mai stata vera o avete finito di fare quella puttanata lì da dieci giorni state già monetizzando come ci si sente liberi un po più ricchi quindi questo corso è un problema creerà una nuova spaccatura di mercato ecco adesso ho usato la spaccatura di mercato domani sponsorizzate a bomba vuoi evitare la spaccatura di mercato compra 497 e nessuno monetizzerà grandi quindi tutte le nuove regole sono contenute nel corso per ora siamo sui 6.000 in dieci giorni senza acquisire nuovi leads o le alz spente da tipo due mesi grande altro testimonia ciraolo 6.000 euro in dieci giorni cosa che hai detto bing lancio da milione e no no mi sa che non lo facciamo un milione cazzo sto giro no no niente milioni proprio voleva il cazzo volevo un milione e quattro da questo lancio mi sa che non lo facciamo siamo molto molto delusi se vedi il viso per per gli occhiali ma per per ma gli occhi sono effettivamente velati di lacrime quindi di qual è la nicchia più strana che hai mai sentito non te le dico ma ne ho no perché non voglio creare alcune nicchie non le conoscevo cioè non pensavo che le persone ce n'è una che mi sta venendo in mente che è molto approfittivo ma non la voglio dire perché chi chi l'ha scoperta e la sta dominando sono sono miei studenti è giusto che facciano soldi prima che la troviamo magari volevo fare 10 euro all'ora al massimo 97 il corso hacker intendo non va il corso hacker è la diretta più bella di sempre grandi signori condividete info marketing per babuini puntocom prendete il corso chiamate l'ottocento 3 0 3 6 6 6 3 6 e oppure andate su prova babuini puntocom per chi vuole vedere alcune lezioni gratis del corso prova babuini puntocom chiamate il numero verde 800 3 0 3 6 6 6 aggiungerai altre lezioni babuini porca di quella puttana non si è chiuso il lancio tu ne vuoi ancora c'è gente che sta monetizzando dopo 24 ore e ne volete ancora tu capisci il problema con questo spiegato peraltro nel corso info marketing qualche altra lezione deve arrivare altre lezioni babuini 31 non va allora chi ha babuini capisce il problema avete visto la lezione di riferimento quando io vi dico certe cose è bellissimo avere sempre ragione bellissimo ragazzi provate allora quindi vi dico tutti voi se non seguite queste regole vi estinguerete allora come avete calpestato gli altri con guerra psicologica calpesterete gli altri con babuini lo so che la cosa magari non vi piace perché voi pensavate di aver finito di studiare però visto l'enorme successo che hanno avuto i nostri corsi noi serviamo una vastissima fetta di mercato quindi è chiaro che poi si creino degli sbilanciamenti e bisogna rispondere a te scusami se sono affamato chissà che la tua fame non verrà un giorno placata ok però adesso prendi quelle lezioni metti le ripetizioni metti la ripetizione applica ce n'hai da fare che guarda babuini c'è è un contenuto assurdo non so quante ore sia 36 hanno scritto qualcosa di ridicolo così ok sono problemi non posticipate la sta roba qua fidate fate loro non dopo qual è il tuo fattore intellettivo che hai sviluppato più per avere successo sentirmi superiore non ascoltare la gente ogni volta che qualcuno mi convince no ma in realtà sei tu no ma guarda che anche gli altri sono intelligenti perché in realtà no ma non si può mai dire perdo o soldi o tempo o ci perdo diciamo la salute sempre sempre successo ogni singola cazzo di volta che io che il mio istinto dice a qualcuno mi fa fare o io faccio b perché in ultima analisi lo faccio io sbagliato sempre ogni volta ogni volta che io non considero e completamente demente una qualunissiasi controparte quando lo so perché quando non lo so non c'è problema non è che lo sono tutti ma nella maggioranza quando si apre un po lo spettro diciamo guarda quanta gente intelligenza sono dei menti travestiti purtroppo altre domande interessanti molto interessanti quasi interessanti oggi mi è andato in errore transfer wise con strada non ho la minima idea di cosa sia successo non ho capito se strada tentava di prendere 3 milioni di dollari da transfer guai o transfer guai doveva andare a strada non è chiara la comunicazione è 3 milioni di dollari infatti io ho appena visto sta roba mi sono cagato sotto poi aspetta un attimo 3 milioni di dollari non ci sono né sul transfer guai né sul strada perché c'è solo un pirla li lascio su transfer guai nel riferimento a cose o persone con milioni su transfer guai vabbè adesso le hanno tre cazzo no bisogna essere più sicuro ma comunque ce ne sono tanti altri no perché io li lascio su transfer guai io li lascio su revel tra ragazzi voi avete il cervello che non funziona c'è davvero e agite perché non va assolutamente bene ma a parte questo 3 milioni su strada e poi anche avere se sono arrivati devono arrivare va bene paio ce li avremo 3 milioni anche perché bonico bonifico giornaliero da strada quindi non ho capito trova 3 milioni la cifra è supera i 3 milioni di limite non sono passati i 3 milioni non si capisce da quale parte a quale altra comunque questo screenshot poi me lo rigioco in modo black tra tra tre quattro mesi siccome vi sarete dimenticati però è quella volta che mi erano arrivati 3 milioni tanto ormai niente ha più significato se d'accordo la realtà non esiste questo 7 per 7 fico a io parto sempre con l'arancione vedete che ho fatto se prendo babbuini consigli di mettermi in azione subito stare fermo aspettare la fine del corso stare fermo aspettare la fine del corso riguarda guarda almeno una volta ciao big oggi mi sono babbuinizzato e sono felicissimo grandissimo corso ora sotto a studiare grande grande isa b dal 9 luglio sono i mezzi e cammelli anch'io consigli per un giovane sbarbato che arriva a dubai ah si dal 7 luglio per chi me lo chiedeva non mi ricordo più il nome dal 7 luglio anche i turisti e dal 23 residenti posso prendere babbuini anche se non ho mai visto né guerra né opportunisti assolutamente sì e anche meglio perché così un nuovo inizio allora se vieni a dubai e dipende cosa voi fa di te c'è di tutto c'è di tutto c'è veramente di tutto e allora adesso col cobi non lo so perché non esco più io faccio vita da pensionato quasi pensione sono semi retirement ok qualcosina faccio però con molta calma con calma per favore parli dell'arancione a ok a per l'arancione contributo ad alfi a riccione chi è stato riccione sono entrato nella sala di riccione sono cagato a dose domicchia alfi ci denuncia tutte le sedie arancioni cazzo che dove cacchio le avete non era già così e vabbè vabbè vigna vigna hai mangiato oggi e fatto l'aperitivo ragazzi devo condividere con voi una notizia il nostro vigna pare non faccia un aperitivo da due giorni scrivete io non so non so veramente pare che sia due giorni che lavora e non va esce più a bere il porto a porto perché la con calma era una battuta ma non ve la spiego perché tanto la madonna big siamo molto scioccati della facilità che hai nel parlare davanti alle telecamere io vado senza premio rotta libera davanti ai clienti senza fermarmi ma davanti alla telecamera un po di freno durata soprattutto per youtube per pubblicità consigli francesco il tuo problema è che tu pensi di dover parlare in un certo modo di fronte alla telecamera quando invece non è vero problema risolto fine corso di comunicazione compra se hai già babbuini comprane un'altra copia per favore che non apri ma almeno mi arrivano i soldi o bonifica digli che ce l'ha già non te lo sblocchiamo c'è una mancia tipo fai anche causare mancia lo capiscono ok 1.000 2.000 3.000 euro anzi no anzi faccio le robe bene perché poi mi da fastidio prendi il corso più alto che costa di comunicazione qualche migliaia di euro mi sembra mi bonifichi il doppio perché tu l'avresti fatto due volte avresti comprato il doppio perché tu credi di dover dire e dover parlare in un certo modo di fronte alla telecamera quando invece non è vero ma anche sul palco ti dico no perché tu dici è un umano bisogna avere la comunicazione robot non devi ci se c'è una cosa che mi inizia a dar fastidio sono le persone che parlano la telecamera in un modo che non parlerebbero mai così che nessuno di parlare la telecamera cioè tetti è come se tu parlassi a un babaleo per strada voglio dire se tu fermi un babaleo non è che ti metti lì a parlare in modo forbito anche perché non va bene non ti capirebbe così casual normale non se fossi al bar di consigli su luoghi dove si va a rimarchiare a dubai al far pal com'è ma io non so niente grande grande francesco mi raccomando causale mancia alfa alfa ma ma no allora alfa si è stucchevole da vedere io ero andato a fare una staycation a provare il file che per staycation ho visto in camera a dormire ma la interpreto a mio modo non ero neanche andato in piscina perché a parte il fatto che pieno di ubriaco io sono entrato un ubriaco un inglese io stavo facendo il check in tranquillamente è arrivato questo inglese si è appoggiato alla reception ha cominciato a parlare in modo ubriaco alla reception e io lo guardavo e alla reception parlavano mi vede e mi dicevano perché il tuo amico non siamo amici non so chi è anzi se potesse gli ho detto sei sempre poi con gli ubriachi io ero abituato c'è da butta fuori non so come ci si parla con questa gente grazie per tutte le tue info big grande big grande serena big ma vogliamo parlare se però però ti posso dire che è babuino però non ancora visto però è babuino grande tindaro cazzo ti adoriamo andate a vedere cosa combina tindaro che anche lui sta proponendo una roba interessante ho visto il video di dubai su youtube hai detto che sarebbe preferibile spostarsi il più presto possibile per il business ma sia in cucinetto di soldi e ha iniziato da poco ad avere un cash flow importante dopo quando consigli prende la decisione definito del trasferimento non ti dico quando la prendono io per esempio corso eccezionale ogni volta che mi segno delle domande da fare in line mi risponde il corso ottimo visto allora alex il discorso sta in questi termini io adesso sto gestendo alcuni clienti privati che si dovrebbero trasferire a dubai il discorso è questo quando tu inizi a generare tanto cash flow questo cash flow è nella banca italiana ed è segnato a livello di invece ci devi pagare sopra le tasse ragazzi cioè purtroppo ci sono poche cazzate in italia e anche lì smetizziamo non c'è ragazzi se voi fate del profitto il profitto è tassato l'unico modo per non farvi tassare è a eliminare o far sparire il profitto non c'è un altro modo conosciuto va bene il problema è che ti girano le palle perché capito tu inizi e non è che magari subito però magari ti fai 100.000 200.000 gli devi dare un sacco di tasse se invece ti sposti subito o quasi subito e va a ridurre il fatto che gli devi dare dei soldi all'italia poi comunque se si trasferisce dopo sei mesi cioè trasferisce a settembre in quell'anno sei comunque imponibile in italia ma direi di portarsi avanti la realtà ragazzi che se avete business su internet digitali remoti a nessuno piace pagare le tasse io conosco tantissime persone che sono in italia non si vogliono muovere e hanno dei casini che sono devastanti hanno soldi ingessati holding prestano e poi non puoi usufruire del tuo denaro ci sono i modi parte che molti sono illegali e poi uno si deve spiegare che non lo sono e non ragazzi dovreste imparare le tasse in italia se non le volete pagare dovete andare in un paradiso fiscale non c'è altro modo quindi io vi consiglio di farlo subito di farlo legalmente cioè di adempiere tutto quello che dovete adempiere perché eravate in italia ma spezzare il cordone umbilicale perché sennò più ne entrano più ne fate vedere più diventa complesso diventa molto complesso quindi io vi consiglio di farlo subito poi non ci pagano niente fate quello che volete però farsi togliere un sacco di soldi in tasse perché ripeto cioè non è le cazzate stanno a zero l'unico modo per non pagare le tasse in italia e non fare profitti e i profitti o li ammazzate forzosamente che è illegale o li evadete all'estero che è illegalissimo e vi danno riciclaggio e oppure non li fate e state lì a guardare le belle stelline io ve lo dico e poi fate quello che volete però di amici e conoscenti in italia che hanno situazioni fiscali complesse ne conosco tantissimo perché nessuno ne vuol pagare riaprirai mai fiscalità internazionale chi lo sa chi lo sa www.infomarketingperbabuini.com dubai paesi oltre dubai paesi consigli paesi senza il tasse per quanto riguarda dubai va bene trasferirsi su 5k al mese aspettare a fare di più allora agat io ti dico con 5000 euro al mese a dubai vivi abbastanza stretto dipende anche che stile di vita vuoi condurre puoi prenderti una casa molto fuori eccetera che magari costa 800 euro al mese fai la tua spesa ce la puoi fare sei però un po' stretto nel senso che abiti a dubai ma non puoi uscire in un ristorante appena di 100 lo puoi fare magari solo una volta cioè hai parecchi limiti quindi 5000 euro al mese a dubai sei un po' non che tu non ci possa vivere ma sei stretto che è un discorso diverso ok cioè ne risparmi pochi e così quindi secondo me tu dovresti avere spendibili se siete single 10.000 dollari se avete spendibili 10.000 dollari state benino non pensate di venire qua a scialare io ve lo sto dicendo lo so che alcuni potrebbero pensare eh però 10.000 lo schiaffa la povertà c'entra un cazzo è matematico cioè i prezzi impongono che tu guadagni una certa cifra con 10.000 dollari se siete single avete quasi dentro certi limiti zero limitazioni sulla casa se vuoi andare in una villa puoi andare se vuoi andare nel one bedroom scusa dell'Armani del The Address del Fai dove cacchio puoi andare puoi vivere in un hotel paghi magari 3.000 4.000 dollari di affitto e secondo me anche abbastanza sbilanciato io starei sui 2.500 puoi andare per esempio al distinction dove vivevo io puoi andare qualche volta in discoteca al ristorante così non pensare che quello è spendibile quindi io ne guadagnerei almeno il doppio ho fatto il video 10.000 spendibili e quindi guadagnare almeno il doppio così te ne metti anche via perché il problema vedete il problema di Dubai è che bello perché non ci sono le tasse le tasse è per l'accumulo di denaro non per lo stile di vita perché anche in Italia voi non pagate le tasse se usate la carta aziendale poi il profitto va a zero però molti usano Dubai per accumulare denaro perché il problema poi delle tasse dell'imposizione è quello che un imprenditore non accumula mai denaro perché non se lo vuole far tassare non c'è non c'è molto altro è da dire in realtà sono discorsi piuttosto semplici quindi vuoi essere a Dubai B cos'è la resistenza passiva e dipende di che argomento la resistenza passiva è quella che ti fanno le donne per esempio è come dire l'aggressività passiva e quella aggressività o quella quella resistenza può essere una resistenza a un'idea o un progetto che non viene manifestata con toni o con comportamenti che si confanno alla normale definizione di aggressività ma che in realtà nei loro risultati si configurano c'è mai voi ditevi perché io non ho ancora vinto il Nobel no ditemelo stiamo qui adesso ne parliamo io devo anche accendere il condizionatore il condizionatore beberino buono bel millino giusto fatemi riaggiornare katanga scusate eh che arrivo fatemi accendere state buone in this party time pretty baby soldi a parte Dubai dove altri non si pagano le tasse Monte Carlo non è tassato a reddito personale Portogallo idem però deve avere le aziende fuori Panama azienda che vende fuori migliore Dubai in quanto lo completi il 3x3 sotto i 3 minuti stavo vedendo il Friedrich devo imparare molti algoritmi il 3x3 lo chiedo 2 minuti e mezzo ho comprato sono molto veloce adesso ne ho due novi vedete che il centro è rotondo sono molto molto veloci soprattutto questo qui è proprio molto perché si muove in mano ve li so anche questo qua invece qua ci ho messo il 6x6 ci ho messo un po' di lozione perché c'è tipo l'oliettino da metterci questo è ingrippato di brutto invece prima lo stavo già rompendo allora ciao Big il problema sarebbe trasferire un'azienda a Dubai anche se sicuramente ci saranno un sacco di persone che lo fanno no no non è un problema se è un'azienda a Dubai dipende se è un'azienda fisica se è una cosa che puoi trasferire la trasferisci cioè se hai un bar non puoi trasferirlo sono d'accordo con voi per carità però se avete un'azienda molti di voi fanno i consulenti down for you prodotti affiliate marketing amazon rpa e drop shipping e tutte queste cose qui perché diavolo dovete stare Malta è ormai satura ma Malta allora innanzitutto io non credo che sia un bel posto Malta perché non cioè non è un posto secondo me di livello e non è un posto di livello che costa un sacco di soldi che un affitto a Malta costa come un affitto a Dubai e a mio parere immotivato e hai comunque le tasse perché a Malta allora se vivi a Malta hai l'azienda fuori se hai le tasse ma se hai l'azienda Malta paghi il 35 ma poi ti ridanno il 30 si configura il 5 però comunque oltretutto ma tu vuoi avere a che fare con le banche maltesi? cioè direi anche direi anche magari anche di no io ero stato a Malta dieci anni fa e ho amici che ci sono stati recentemente a parte vabbè che questi amici erano stati prima Dubai quindi Dubai Malta non è un paragone fattibile per nessuno però allora ragazzi a livello fiscale meglio dell'Italia è praticamente tutto forse peggio Francia cioè per chi non ha i soldi per Dubai vada in Europa dell'Est però molti di voi il problema è che tentano di posticipare questa cosa vedendo se ci sono soluzioni standard in Italia ve lo dico già io non ci sono sono tutte soluzioni o illegali o illegali nei primi tempi quando non ti funzionava niente hai mai pensato di mollare per la disperazione no perché sapevo che ce l'avrei fatta e quindi non mollava trasferimento di una fabbrica è complesso non lo so io ho un'azienda intangibile comunque non abbiamo asset asset fisici ok da muove trattori o cose del genere portogallo è necessario sapere il portoghese oppure va bene sapere l'inglese non lo so sono stato in portogallo quando ero piccolissimo e comunicavo con i bambini portoghesi che mi rubavano i legni che io nascondevo sotto una barca e non so in che lingua però mi spiega la mia io mi ricordo anche di questa scena cioè i bambini portoghesi io stavo giocando il mio gioco era nascondere i legni sotto una barca questi arrivavano e li fottevano io a un certo punto mi sono girate le palle e ho espresso quello che dovevo dire però mi capivano perché ci parlavamo perché mio papà aveva fatto un un viaggio di lavoro in Portogallo e ci aveva portato avevo tipo un anno cioè due anni cioè Luca visto che tu vieni sugli influencer sarebbe da mandare alla regione Veneto che per rilanciare il turismo ha stanziato 2,4 milioni perché alcuni influencer vengano in vacanza in Veneto influencer c'è sulla base del numero dei followers s'ha detta dell'assessore vedi cazzo comprare veramente un po' di fake e farsi un po' di soldi vedi ma il motivo vedi è questo è che tu puoi anche divulgare formare ma poi la gente non ha scocci ci viviamo in questo mondo poi poi ci lamentiamo che ci sono i fake hai capito qual è la perversione cioè big in una nicchia profittevole nella quale immergersi per diventare consulenti serena devi innanzitutto avere delle conoscenze specifiche che risolvano dei problemi ed essere realmente esperta perché altrimenti è un problema tutto ciò che ha a che fare con il marketing e l'online marketing è molto profittevole ma ci sono tutta una serie di altre nicchie il problema è che dirti delle nicchie ci ti posso dire la nicchia del non lo so dell'addestramento dei cani ma se tu non ci azzecchi niente con i cani ti ho detto una cosa inutile poi come chi mi chiede cosa vendere io gli dico vendete tasse ma non sapendo l'ecosistema non sapendo il marketing è un consiglio inutile sì anche l'America fa schifo a livello di tasse ma ci sono problemi riguardanti i magazzini per le tasse anche se trasferisce a Dubai il magazzino non è personale non lo so ecco l'ufficio il nostro buon vigna se ti interessa a me continua ad arrivare le tue mail nella cartella promozione Gmail ciao grande sì allora adesso no le stiamo infilando principalmente in principale ne arrivano è una cosa tra Gmail e a Web perché comunque abbiamo semi risolto io e gli altri a volte arrivano ancora in promozione sicuramente il tasso delle volte in cui arriviamo in promozione è aumentato però abbiamo fatto pulizia recentemente quasi tutte in principale infatti l'open rate è più poi qualcuno ha un arrivato anche in spam ragazzi non di più tu puoi fare tutto quello che vuoi con le mail alcune il fatto è la maggior parte avere un open rate del 20-25% di media ok sui broadcast quando ce l'hai qualcuno arriverà in promozione qualcuno arriverà in spam vabbè però grazie infomarketing per babuini cose turchi a voi piace quando il big vi spiega delle cose turchi ecco babuini e turchi posso prendere babuini anche se sono completamente di giuro di qualsiasi argomento di marketing sì perché ha spiegato in babuini c'è sia la componente tecnica che quella strategica e ti dà un mestiere in qualche modo babuini primo perché puoi dire che sei un babuino ma poi perché capisci come vendere informazioni o come vendere il tuo sapere o paradossalmente il down for you ricordi qualche momento divertente nei mastermind o nelle lezioni live dei guru americani a cui hai assistito una divertente con Sam Owens allora lui è neozelandese o australiano no no è neozelandese i neozelandesi e gli australiani hanno un accento molto secondo gli australiani strano su certe vocali tipo lui dice webinar webinar e poi dice chicken account checking account chicken account ok lui vuol dire checking account però non riesce a dire checking dice chicken checking account checking account e uno ha capito chicken account cioè l'account per i polli e non solo ma Sam non l'ha capito perché nel live uno ha chiesto what is a chicken account e lui fa chicken account I don't know perché non capiva che la sua pronuncia di checking era molto simile a chicken è volto che vedo le tue sponsorizzate nonostante sia già un babbino mentecatto no in teoria no però qualcuno ci resta dentro nel retario ma tu ricopralo ma tu ricopralo poi smetto grande grande Fabio signori problemi problemi in vista ho iniziato un business online da circa due mesi e sto avendo i primi risultati vorrei lanciare il posto fisso ma i miei genitori non sono d'accordo mi daresti un consiglio per favore 22 anni Annina Santa in che senso i tuoi genitori non sono d'accordo hai 22 anni ragazzi sveglia a parte il fatto che non dovresti vivere con i tuoi genitori bisogna lasciare il nindo materno e prendere sposa o sposo leggete certe cose 22 anni i miei genitori non sono d'accordo cazzo c'hai 6 anni e comunque se vivi sotto il loro tetto devi provvedere alle tue cose e dovresti smammare messaggio a tutti i bamboccioni andatevi di casa se non siete a casa non sono fatti dei vostri genitori non devono avere dai 18 anni in poi dovete andare con le vostre gambine prima invece vi guidano eccetera a volte no ma lasciamo perdere ho guardato la trial di infomarketing per babbuini mi ha gasato devo dire che già la mia attività è cresciuta solo guardando le tue live forse è questione di mindset forse ho assorbito inconsciamente le tue direttive eh già credo sia il momento di ricompensarti eh 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 Mirko dai dai mio millino e due tranquillo che c'ho le scadenze c'ho le bollette c'ho un sacco di problemi i cubi i cubi costano perché uno vede il cubo di ruba big luca sta facendo il cubo sì ma va comprato il cubo dalla Cina mi arriva il cubi guarda qui donna disperata quando si risolva questo mi compie bombardozzo da 17 per 17 grosso così sono momenti nella vita di un uomo anche particolare solo i bonus superano il valore eh ah ricompri comprate il corso anche per gli altri regalatelo consigli in qualche banca estera aprire il conto online da non residente a parte N26 o N va bene N26 va bene all'inizio ragazzi cioè se fai grano e allora questa è una domanda che mi è stata io non sono le banche cioè non ho né interessi né niente ti posso dire una banca internazionale apre un conto si chiama o conto offshore o conto international mi viene in mente la Barclays che non ha una soglia di ingresso alta 25.000 pound perché se no di solito se vai in altre banche sono 50.000 o di solito 200 250.000 ho già visto almeno due persone che vendono a 1.200 eh ma Europe e se hai visto il corso sai che non durerà eh così hai un sorriso nuovo complimenti al professionista che se ne è occupato questo e fai conto che non mi hanno ancora fatto lo sbiancamento e non mi hanno messo le faccette però i denti si stanno e sono quasi alla fine Big My Cuvie dove li hai presi mi sa che li hai presi da qualche store che sta facendo un dropshipping no 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 ah l'altro giorno volevo comprare ma mi sono accorto che il disgraziato era un dropshipping perché io ho già rimesso soldi col dropshipping uno mi chiede cosa ne pensi del dropshipping truffa e no non per tutti per carità non voglio mettere in giro voce però sì a me avevano rubato 29 dollari se io becco quello che ha aperto lo store mi ha fregato i soldi se ne è andato con la neck hammock se qualcuno mi vuole fare un favore mi prendete una neck hammock ufficiale me l'ha inviata a Dubai che mi devo rilassare da quando hai visto la prima volta The Secret i primi risultati quanto tempo è passato dipende da cosa intendi per risultati se intendi monetari o qualcosa è cambiato dentro di me subito però in realtà poi l'ho rivisto forse anche un annetto dopo Cri non vedo le domande non vedo le domande che mi stai facendo Europa dell'est tipo dove secondo te ragazzi io in Europa dell'est non ci sono neanche mai stato ve lo dico per sentito dire perché ho persone amici che risiedono lì eccetera so Bulgaria Romania dove era dove era andato anche Cicchinelli non in Armenia in Slovacchia tutti quei paesi lì ok hanno hanno una tassazione di solito bassa e quindi così è giusto andare a vivere soli di ammettere poco o niente allora per l'andare a vivere da soli ragazzi quello che voi dovete fare è questo è un po' il problema che hanno che hanno le persone nel senso che cominciano a fare diciamo business e dicono vado a vivere da solo e pago tutto quello che devo pagare oppure sto in casa con i genitori e accumulo dipende da che genitori avete e da che situazione del potenziante avete a casa perché se stando a casa siete miserable non riuscite a lavorare non riuscirete mai a scalare niente quindi è molto peggio restare a casa e quindi semplicemente andate via di casa vi pagate un posticino e usate quell'energia ritrovata del fatto che nessuno vi rompa gli ammennicoli per fare più business fare più impresa mettere dei soldi penso che sia giusto tirare qualche mese magari se vivete con i vostri tanto per dire non so se ci vivete ma è solo un esempio per accumulare qualche soldino ma appena potete dovete necessariamente andare fuori di casa quindi andare a vivere da soli assolutamente sì anche perché non si vive con i genitori o con gli altri bisogna andarsene solo in Italia che è una cosa normale stare a casa a fare i bamboccioni cioè negli altri paesi non esiste questa roba qua siete d'accordo it's party time and I think when you know baby allora se questo lo metto qui quest'altro lo metto qui niente ho fatto un casino devo rimodificare vedi queste sono le robe lunghe perché io faccio il metodo a strada che è abbastanza ormai lo faccio praticamente a memoria e comprare una panchettina devo mettere i gomiti faccio il cubito allora e allora che cazzo dove sono gli angoli giallo giallo tre business una vendita forzata due ore tre gestire totale non ho capito forse perché non stavo guardando allora blu ah no niente ho sbagliato e parlare in inglese a livello madrelingua che sblocchi povero a livello di business allora parlare l'inglese a livello madrelingua vi dà un incredibile aiuto quando studiate perché volenti o nolenti le informazioni di rilievo le informazioni all'avanguardia 99% non escono prima in italiano cioè semplicemente la realtà dei fatti nel marketing ragazzi non sapere l'inglese vuol dire che siete handicappati cioè potete studiare da me da pochissimi altri la verità è che sarete sempre indietro e sarete sempre condannati a ciò che vi dicono poi se non siete e poi instaurare relazioni meaningful cioè nel fare business andare in giro visitare i posti le persone parlano molto più volentieri con una persona che è praticamente madrelingua perché non c'è il problema di non capirsi o di non capire le battute o di stare lì con l'orecchio teso madrelingua non vogliono stare lì con l'orecchio teso così come tu non vuoi stare con l'orecchio teso con qualcuno che non parla l'italiano gli sbocchi sono questi fondamentalmente come hai imparato a risolvere il cubo di ruby con youtube cercate i tutorial Luca TN si chiama bravissimo lo speech di Dave D posso usarlo per creare un video di mezz'ora dove offro la strategy call e il materiale di Dave D no se vuoi creare una roba sul materiale di Dave D dice che lui ti insegna e tu applichi le strategie sì il corso è lì perché voi possiate applicare le strategie non è che se le applicate poi vi denunciano ciao big all'inizio durante le primissime erite ed errori fallimenti come posso motivare per continuare a fare sempre meglio devi assicurarti che tu stai facendo quello che vuoi fare cioè ci sono persone che per esempio non dovrebbero fare imprese non dovrebbero fare soldi perché in realtà non gliene frega niente se invece te ne frega e capire che ci vuole tempo quella roba hai avuto momenti di down quando ti sei isolato certo allora vediamo se riesco a beccato ma ecco Cri sono arrivato tardi ho sentito parlare di personalità passivo-aggressive ti chiedevo se hai idea di come gestirle io ho problemi eliminandole 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 oppure se hai un potere di ruolo gestisci con l'aggressività ok se hai una persona passiva-aggressiva è nel tuo gruppo o nella tua vita va semplicemente eliminata va semplicemente eliminata grande Michela grandissima se questa persona è il tuo partner o siete sposati invece e avete bambini direi anche di no però le altre vanno eliminate non c'è modo non c'è assolutamente modo ci sono come gli psicopatici per esempio sappiate che mi sembra il 10% della popolazione maschile mi sembra è psicopatica quando tu dici che hai a che fare con degli psicopatici le persone pensano che sia una battuta invece non lo è cioè ci sono persone che provano chi è uno psicopatico una persona che fa male agli altri verbalmente o fisicamente e o praticamente ti posso rovinarti a livello economico tanto per dire ok senza guadagnarci nulla ma perché l'hai fatto non lo so ok questo è uno psicopatico e non puoi gestirli ok quindi e poi chi tenta di manipolarti con il senso di colpa c'è un'ottima frase che ho imparato da Brian Tracy la vuoi sentire allora perché manipolare col senso di colpa lo fanno i genitori è molto forte ok e quindi praticamente quando qualcuno prova a farmi sentire in colpa tu devi guardarlo sorridere e dire scusa stai provando a farmi sentire in colpa perché il gioco non funziona quando viene portato in superficie il gioco funziona solo quando è sotto sotto traccia no poi ci riprova scusa stai provando a farmi sentire in colpa ah no ah ok no perché pensavo stessi provando a farmi sentire in colpa e più tu lo dici più la cosa diciamo svanisce passivo-aggressivo invece è un po' diverso perché passivo-aggressivo nelle risposte nell'essere accusato di essere passivo-aggressivo non sono io sbagliato magari lo sei non lo so non ti conosco però io penso che nessuno sia sbagliato io penso che ci siano valori sbagliati per degli obiettivi tipo io che stasera mi sono rimangiato la finocchiona con il formaggio stagionato e i cornflakes non posso lamentarmi se non ho gli addominali però io lo so e mi va bene così per ora poi magari prossima estate arrivo tutto tirato però tu devi vivere contenta delle robe di cui vuoi essere contenta cioè se hai dei progetti qualcuno che te li rovina vanno assolutamente eliminati se hai un potere di ruolo proibisci a questa persona di farlo ma a volte non ci si riesce neanche col potere di ruolo non per niente si licenza la gente come lo vedi l'infobusiness insegna a risolvere il cubo di rubik se c'è dietro della coaching potrebbe andare bene effettivamente coaching personale sul cubo di rubik va bene tutorial ci sono anche gratis ma lo potresti vendere i tutorial gratis fai conto che tipo quelli che seguo io sono veramente di alto livello tipo io faccio pubblicità volentieri si chiama lucatn 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 cubo bravissimo grazie lucatn ok sappi che è da anni che io guardo i tuoi video e ti stimo lui fa dei tutorial molto lenti ti fa vedere tutti i casi muove il cubo piano perché ce ne sono altri ragazzi che sono molto bravi ci si vede che sono dei campioni ma muovono il cubo troppo forte fai questo fai questo troppo ciao big l'idea di fare due versioni di babbuini con due prezzi diversi l'hai scartata grazie no non è non è scartata in realtà nel lancio facciamo così poi chi vivrà vedrà che potrebbe essere anche il titolo di un altro lancio chi vivrà vedrà adesso me lo giurano me lo giurano ah comunque ragazzi è ora di basta di lanciare quando lancio io tutti a giugno basta non è neanche un mese giusto giugno no una cosa che speravo è che tutti eliminassero il proprio canale di youtube ho fatto un po' la merda ho detto se eliminano anche loro tutti i video sono posti invece lì non ci sono cascati hanno detto no a livello di algoritmo è una troiata cazzo qua stavamo capito non l'abbiamo fatto per altri motivi ho fatto di milioni con i corsi però vabbè bene ciao 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 altre domande più o meno interessanti signori meno tre giorni tutti i bonus vaniranno i vostri competitor prenderanno babuini mentre voi rimarrete delle gazellucciole big lancia a mille due anch'io non lanciero a mille due perché ma sì ma perché no ma come ti si veste alla moda mi metto questo perché se lo mettono gli altri credo lanceresti un corso ad agosto non ci sono criticità molte volte nel lanciare ad agosto le banche sicuramente sono più solide e sicure a dubai non come in italia beh non ci sono dubbi la difficoltà più grande che abbia vissuto è stato il continuo senso di risparmio per qualunque cosa da parte di mio padre mi rende ancora difficile fare certi investimenti e a chi lo dici salvo io ce l'ho da parte di mia madre nel momento in cui ti senti forte anche ignorare completamente chi ti vuole far sentire ha funzionato perché c'è gente che vuole vivere di conflitti e spegnere il conflitto funziona sì a volte lo spegni con l'aggressività ok cioè se tu mi rompi i coglioni io so abbastanza bene come farti cagare in mano a volte non funziona semplicemente non è remunerativo farlo in termini di passi per cattivo di fronte agli altri con questi altri e che fare io di solito elimino tutto il gruppo questo è un vantaggio anche è una delle motive per cui dovete ricercare la libertà economica perché non dovete baciare il culo di quasi nessuno anzi nessuno consigli dei corsi seri non li conosco ciao Big Luca come si potrebbe applicare il corso per Babuini per un agente immobiliare beh Paolo direi che lo sapremo dopo che prendi il corso comunque ci sono tantissimi agenti immobiliari ho già fatto vari esempi guarda delle lezioni gratuite prova Babuini punto com ok sicuramente nel creare un ecosistema che ti porta clienti sicuramente nel creare delle automatizzazioni in termini di viewing pricing capire che prezzi fare con quali clienti parlare sicuramente appropriato molto mentecatti appropriato pure Babuini conosci persone che guadagnano un milione al mese sì beh la crescita dipende ovviamente da che livello parti secondo la tua esperienza possono volerci anche due o tre o quattro anni ma allora dipende che esperienza dipende quanto studiati io per esempio sono un fanatico io studio tutto il giorno cioè tutto il giorno la mia vita è così da vent'anni da quando io ho scoperto l'hacking cioè io ero un po' tipo una cioè programmazione computer io è da quando ho esattamente dieci anni che sto al computer a studiare tutto il giorno ok modello robot quindi tra poco saranno venti anni che io sto davanti al computer a studiare qualunque cosa qualunque cosa ok la verità è che pochissime persone studiano questo è un vantaggio in realtà se tu studi qualche ora al giorno per un anno diventi piuttosto esperto se studi svariate ore al giorno per qualche anno diventi uno dei top esperti ed è così e poi migliori questa esperienza qui il problema è sapere cosa studiare e come studiare perché è come una lingua tu puoi diventare fluente in cinese in due anni e poi c'è gente che siccome usa metodi sbagliati e dieci anni che non ci riesce allora dice no perché se non ci sono riuscito io in dieci anni quanto tempo ho impiegato ad imparare a risolvere il cubo di rubik la prima volta l'ho risolto in mezz'ora non ci vuole è facile ciao big ho preso babbuini anche se non ho ancora un business attivo però ti voglio ringraziare perché grazie alle informazioni presenti nel corso posso iniziare con la consapevolezza di certe criticità tu e il tuo team avete davvero fatto un lavorone vedi particolare criticità in un social media agency per ristoranti grazie mille in anticipo prego michele complimenti per l'ottima scelta vedi particolare criticità in un social media agency per ristoranti dipende che cosa intendi cioè se tu gli porti cliente è una cosa se gestisci i social è un'altra adesso vedo le limitazioni del covid gioca sia a tuo favore che a svantaggio perché mentre prima era solo un fatto di riempire il ristorante adesso ci sono sì beh tu dici gli fai arrivare la fila e la fila si può accomodare anche se i coperti sono un terzo quindi vedevo più la criticità prima perché prima di riaprire non si capiva quando avrebbero riaperto mentre dici ti porto clienti ma se non si possono sedere magari fagli anche integrare un asporto per esempio automatizzargli l'asporto che molti non ce l'hanno questo sarebbe un lavoro di valore per esempio ho vent'anni non riesco a trovare nessuna mia conoscenza che potrei monetizzare in un infobusiness cosa potrei fare imparare un'altra roba io ho aggredito con le PEC e anche quella ha funzionato perché non volendo sottomettermi e sapendo dire pienamente ragione all'improvviso l'aggressività è sparita devo ringraziare i tuoi corsi per essere entrata nella giusta mentalità e non indietreggiare brava carmelina eh ragazzi discorso è che bisogna anche essere a volte aggressivi perché se no le persone te la mettono in quel posto soprattutto nel business in un business di sistemi di sicurezza meglio application preventiva online telefonata oppure application telefonata preventiva vedi Emiliano questi sono i problemi dell'industria non c'è la risposta io te la posso anche dare ma devi eh tu devi capire devi studiare la strategia che poi ti permette a te di trovare questa risposta perché se te la do io cosa succede quando ti cambia un attimo il mercato tra due mesi vieni live non c'è va bene quello che è application preventiva online telefonata possono funzionare tutte e due dipende in che fascia di prezzo siete e se siete di alta gamma o no va benissimo chiamare dopo il preventivo o chiamare prima o chiamare anche prima e dopo ma bisogna vedere se fai take away selling oppure no in questo caso al prezzo ci arrivi un po' dopo esperienze in facebook quali strategie stanno performando meglio ora per vendita prodotti prodotti fisici o prodotti digitali non ci sono particolari cambiamenti ci sono dei cambiamenti per non farsi bannare lì ogni ogni mese il delirio fai conto che il metodo spiegati mentecati di fare un posto sponsorizzato e poi metterlo come l'e generation ancora miete vittime sono le cose semplici che funzionano ci sono a volte problemi di scaling in termini dove mettere il budget se clonare le campagne o mettere più budget ma non ci sono altre cose funziona benissimo perché tu non lo fai penso che tu ti riferisca a paccone confermamelo fascia altissima fascia altissima dipende se hai un meeting con il cliente o no se hai un assessment da fare per i sistemi di sicurezza oppure se è semplicemente un preventivo secco se è un preventivo secco il preventivo costa tanto io lo lo farei dopo dopo una telefonata Gabriele il paccone funziona benissimo cosa intendi per funziona benissimo nel senso che piace agli altri quando arriva o è sensato a livello numerico che sono due cose diverse quante persone lo hanno acquistato Mentecati da quando lo hai lanciato è un sacco di gente tipo mille qualcosa di genere non mi ricordo il numero esatto anche perché c'è chi non prende Mentecati ma Mentecati gli viene dato con un bundle con un altro corso perciò dipende se intendi i corsi è la stessa cosa di Mentecati nell'Academy se io conto le vendite singole erano 600 700 non mi ricordo ma poi ci sono le vendite con l'Academy che includeva Mentecati non so se è chiaro Biga quando online marketing per Mentecati 3.0 ragazzi online marketing per Mentecati 2.0 è un corso per cui mi dovrebbero fare un Nobel cioè la parte sul mindset ci sono delle lezioni di un valore che sono estremo e non devo rifarlo dopo due mesi quando avrò delle cose sensate ci saranno delle differenze che detteranno un altro corso lo farò beh Katanga mi chiede ogni mese di confermare l'indirizzo per far arrivare il materiale di Mentecati 2.0 e te lo chiede perché non l'hai confermato e avrai non mi sa un indirizzo che non va bene questa è anche un'altra cosa adesso i protocolli Kennedy sono in consegna Mentecati 2.0 lo stiamo facendo stampare ragazzi mi ha detto l'ufficio che ci sono 150 o 200 persone con indirizzi che non vanno bene come cazzo facciamo a spedirvelo sono un commento ne seguo tanti ma tu sei un fuoriclasse della vendita competente simpatico come te nessuno hai qualche amico che gestisce o ne sa qualcosa di locali lussosi tipo strip club sì io ne so a pacchi per esempio come ti comporti con chi ti copia o dei competitor sia una scuola di musica che fanno esattamente i miei stessi posti le mie stesse offerte didattiche a distanza di pochi giorni la mia pubblicazione la mendole sarebbe quella di reagire male Mirko non vinceranno mai chi copia non vince ragazzi cioè prima o dopo tu puoi partire copiando o modellando o usa il termine che vuoi ma prima o dopo se tu vuoi ottenere longevità devi fare delle cose che sono tue cioè tipo l'impostazione dei nomi noi abbiamo un vantaggio competitivo perché abbiamo delle procedure interne abbiamo un team vendita abbiamo una piattaforma proprietaria con tracciamenti se ci serve una cosa la facciamo la soglia di ingresso è alta perché prima ti devi fare un software come Katanga che non è solo il frontend voi vedete il frontend ma io vi potrei far vedere il backend che ci agevola in modo incredibile è tutto proceduralizzato cosa fare se arriva questa email rimuovere le variabili eccetera oltre alla competenza altissima dei corsi ma è nostro come non abbiamo copiato nessuno cioè abbiamo creato io e Luca Cicchinelli oltre agli altri manager che poi sono arrivati e queste procedure questi processi il nostro processo di lancio per esempio è nostro se tu ce lo copi non vai bene quindi io se sono il più copiato ma va bene cioè fregatene tu continua a fare fare grano quello che uso per tutto il resto come sempre se ci sono problemi contatto via me al massimo e se è giusto non dovrebbe richiedertelo contatto all'ufficio no te lo dico non ce l'avevo con te però molti ce ne abbiamo l'altro giorno all'ufficio facevamo il calcolo delle copie singole di Mentecatti 2.0 di quelli che hanno perché poi anche Mentecatti 2.0 c'è chi ha Mentecatti 2.0 a 1.2 dove non ci sono i live e quindi non gli regaliamo neanche il paccone con il libro chi invece l'ha preso a 2.000 cioè adesso ma in lancio era 1.2 ok quindi è tutto Katanga traccia tutto per esempio su Katanga noi abbiamo fatto integrare gli sms traccio le commissioni da andare a Dan Kennedy alla JKIC le spedizioni è tutto tracciato internamente le spese i venditori i venditori vedo le commissioni che hanno automaticamente perché traccia le vendite venga un network marketing basato su un token secondo te è uno schema Ponzi qualunque cosa che sia basato su cripto cazzate del genere non mi piace poi non mi interessa non so che cazzo sia il top rissego ma sei riuscito ad insegnarmi in un mondo totalmente nuovo per me grazie prego Davide prendi infomarketing per Babuina e lancio va bene signori avete tempo fino a mezzanotte del 25 giugno ok mezzanotte del 25 giugno chiudiamo il corso alziamo togliamo i bonus niente sarà più come prima e tutte quelle altre frasi lì io vi intendo effetto wow allora l'effetto wow si deve tradurre in una monetizzazione bancaria no? te lo dico perché non tutti nella formazione l'hanno capito cioè l'effetto wow fa dire alle persone wow ed è bello vedere le persone che dicono wow no? cioè sarebbe come dire che tu hai un pisello di 30 centimetri ti tiri giù le mutande davanti a una quella fa wow sì ma se non ti tira e non funzioni è wow fino a se stesso ok? quindi il paccone a volte economicamente non va bene a volte non va bene strategicamente a volte va bene lo mandiamo e a volte è semplicemente una rottura di di coglioni inutile ti seguo da tempo e vedo chi ha i contenuti e competenze ben strutturate di alto livello una domanda affinché il tutto sia applicato alla lettera quanto budget bisogna investire per poter avere un ritorno che soddisfi l'investimento fatto parlo da trader e baso tutto sui numeri rischio e rendimento comunque complimenti per ciò che fai sempre compreso le mie chiadea in quale business? in quale business? affinché tutto sia applicato alla lettera cosa? tipo infomarketing per babuini? infomarketing per babuini puoi partire anche con qualche centinaio di euro per gli ads o poi attresti anche non fare ads se fai organico è una domanda un po' oziosa se tu vuoi vendere consulenze devi mettere su un piccolo fanellino e proporti nel senso che si propongono loro ma ci siamo capiti non serve un alto budget sicuramente per mettere su un infobusiness cioè un business di informazioni tipo il nostro parecchi parecchi ma io ti posso dire che ogni anno spendiamo non so un milione di euro però detto così non vuol dire niente perché non è che tu parti con un milione di euro è che tu continui a reinvestire una porzione di quello che guadagni dipende anche dove ti vuoi espandere no? non è che all'inizio ha richiesto sicuramente poi ci sono dei costi secondo te qual è il miglior business online con cui partire avendo un budget di 2k sicuramente è la vendita di informazioni e servizi cioè io l'ho detto nel webinar non c'è niente che possa farvi evitare il vostro conto in banca come vendere informazioni e servizi nel modo giusto e le disproporzioni più grandi e i margini maggiori le fate con servizi software corsi e consulenza perché è l'unica cosa che da zero cioè se tu riesci a vendere un pacchetto di consulenza a 5k sei passato da 0 a 5k non c'è nessun altro business dove con 0 tu puoi fare 5k la spiegazione è molto banale ah mientia basta questo dropshipping ragazzi ma uscite da sto tune penso che sia un modello di business che potrebbe andare bene per cominciare per pucciare i piedi è un business con dei margini estremamente bassi non tutti lo fanno in modo etico nel momento in cui uno lavora seriamente potrebbe andare benino ma è un business dove non hai il controllo io non lo farei cioè non ho mai fatto mistero ma lo stesso affiliate marketing fatto in certi in certi modi non hai il controllo lo stesso Amazon e DA non hai il controllo sono tutti e tre business diversi non sono uguali però un business dove non hai il controllo delle fonti di traffico non hai il controllo dei prodotti non hai il controllo della piattaforma non hai il controllo dei prezzi non hai il controllo di niente a me non piace poi se tu mi dici si possono fare soldi con il dropshipping ti rispondo di sì però oramai i margini si sono abbassati anche con il costo della pubblicità senza contare ciao Dibo come andiamo va che Apple ha annunciato ti dico cosa ha annunciato che magari ti interessa sicuramente lo sai allora aspetta immaginate con chi stavo parlando prima allora Apple passa CPU sue la Apple Silicon Intel domani perderà miliardi un mio amico nerd mi ha detto questo che ne pensi del self publishing il self publishing è un metodo di guadagno è una cosa carina simpatica che ha dato in Natalia Big Luca a parte che prima facevo il traduttore online se proprio dovessimo essere precisi è una cosa che va che va benino nel senso che è una cosa che funziona ci sono delle criticità ovvie però è una è una cosa che si può fare consulenza intendi online che sia online offline non conta però se io ti vendo un pacchetto ma anche il done for you quando siete da soli tu sei il consulente vendi un pacchetto che include la creazione fan eccetera 7k sei passato da zero a volte se lavori in un certo modo o da poco 7k 7000 euro per farli con un drop shipping un FBA delle affiliazioni devi spenderne almeno la metà la prima volta che non hai quindi non so se è chiaro il rapporto non che non vadano bene è semplicemente diverso ciao ciao buonanotte baldini ma la tua testimonianza io ho un venditore che sia baldini che lui riceve i corsi prima no perché essendo un venditore del TTA ha i suoi vantaggi guarda i corsi lucra e non fa il testimonian e io mi chiedo ma io che ce sto a fa io che ce sto a fa qual è la pronuncia corretta di affiliation ma vaffanco non esiste ormai è diventato del vocabolario comune si dice affiliate marketing ragazzi davvero non esiste l'affiliation marketing la parola affiliation vuol dire sia affiliazione ma non vuol dire l'affiliazione nel senso di affiliate marketing non per niente in America avete notato che non c'è l'affiliation manager sono tutti affiliate manager pensate che sbagliano loro affiliation è tipo political affiliation affiliation to the mob perché in facebook vedo la pubblicità no BS inercirco è tutta colpa del protocollo Kennedy no noi non c'entriamo protocollo protocollo grandi ragazzi grandi ragazzi siete siete stimabili siete stimabili vedo che con passo lesto qui le vendite aumentano bravi bravi signori complimenti diciamo che il live a me piace a me piace io sono una persona sì a me piace vedere sta roba qui che va su io vi vengo di cazzo di corsi voi lucrate io guadagno investo mangio cecubo non si immagina che chissà che cazzo faccio no l'affiliation marketing non esiste mi dispiace esiste l'affiliate marketing non l'affiliation marketing non esiste la parola affiliation marketing vi dico già babbunizzato ma perché mi targettizzi ovunque adwords o facebook ragazzi chi ha comprato babbunini mi vede su facebook o su adwords così capisco a chi tira le orecchie mi ha contattato oggi grande un segno che devo comprare babbunini eh sì certo ovviamente grande lancio comunque mi è stato detto bellissimo noi abbiamo delle situazioni aziendali io sono diciamo in delle difficoltà estreme a parte le persone che studiano che non possiamo dire che studiano da noi poi ci sono quelle che studiano e fanno i complimenti e mi dicono geniale sei un genio perché poi sono perversi cioè io hanno questo dualismo a loro piace in realtà questo piedino in entrambe le sta eh capisci giusto no ma capisco capisco un po' come quando no ne hai due o tre perché in realtà perversamente ti piace il fatto bravo siamo capiti io ti vedo su youtube al di numero uno sei ovunque e lo so che sono ovunque stiamo spendendo anche poco siamo a 600 al giorno allora aspetta un attimo intattare allora fa vedere eh ciao caloni guarda che mi dicono che anche i babbunizzati sono ritargettizzati forse su adwords controllo per favore ciao scusate se è ruto ma ho mangiato tanto quando consiglio di iniziare a delegare servizi e gestione ad aziende professionisti avrai dei margini di merda e una vita schifosa anche il mio youtube è monopolizzato dal big le email che mi dicono di comprare i corsi anche se li ho già comprati tutti ma fa niente ti perdono ma no perché ti sarai iscritta con un'altra email se non mi se non mi sbaglio c'era già stato un problema con te su paypal che nessuno trovava la transazione perché era un'altra email un altro numero di telefono magari fossi tu o magari non è tu non lo so mi sono sincero e che le email escludano i già babuinizzati ne è please non dovrebbero partire le email succede sempre qualche casino vedete questa è la realtà un email parte sbagliato è così è tutto sporco ma per big perché non compro un hotel che cazzo me ne faccio comprare un hotel devo investire investire in borsa devo investire in borsa signore ma quale hotel d'Egitto bisogna essere tranquilli no non ero io allora non ero te allora ho un'altra persona che mi sa che si chiama come te qua si comincia già a scollare molto male va bene ragazzi che siate voi o che non siate voi io vi perdono perciò acquistate infomarketing per babbuini big stai pensando di scrivere un libro ce l'ho già il libro l'ho già scritto ne volete un altro ma perché io devo c'è già si chiama big luca senza pudore e non è in vendita l'ho regalato a Riccione a quei pellegrini che sono venuti a questo eventucolo così arrabbatato ce lo ricordiamo tutti e adesso chi prende online marketing per Mentecatti 2.0 con anche i live costa 2000 euro arriva quando arriva il pacchione della trascrizione dovrebbe arrivare in Fed d'altronde ci sono cose che non dipendono solo da noi arriva anche il libro quindi per avere il libro devi spendere 2000 euro geniale eh 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 insomma big il mondo è cambiato una tua geniale idea di investimento post covid su voi stessi ma di cosa stiamo parlando investite per il lungo termine in robe che non siano cripto ponzi piramidali soldi facili e quelle robe lì imparate studiate lucrate hai sentito di quel ragazzo che ha rifiutato 8 milioni per il suo sito qualche mesetto fa sarà stato per un'azienda non per un sito no non l'ho sentito sei un grande mi fai morire hai dei babuini nel senso negativo nel reparto gestione campagna ador sì c'è un sacco di persone che fanno le campagne ho tanti studenti sul sulla questione sulla questione gestione ads sì sì anche perché abbiamo un'ampia sezione su questo in online marketing per mente catti che le persone imparano poi vogliono far sta roba comunque focalizziamoci su babuini non ve l'aspettavate che sarebbe uscito info marketing per babuini anche stavolta stavolta i feedback sono ogni volta però questa volta ancora più perversa la situazione vi ho sfiziato parecchio dai su quello volevate questo corsettino qui eravate lì stavate per vendere a 1200 senza capire che cazzo stavate dite la verità quanti dai quanti gli ho bloccato completamente i piani meno male meno male bella fresca va bene ragazzi io devo andare ah peraltro per questi dieci giorni più o meno io sono in casa da solo perché donna non c'è big il prossimo corso a quando ma altri corsi devo fare altri corsi io non devo lavorare non ho questo peso esistenziale i corsi vogliono niente corsi non li facciamo più arrivederci a quando